Gli agenti della squadra mobile dell'acquistore di Nuoro del commissariato di Siniscola ieri mattina hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio Giovanni Carzè da 28 anni, nato a Nuoro ma residente nella cittadina baroniese. Sarebbe l'autore del tentato omicidio dello studente di 17 anni di Siniscola colpito alla testa con una bottiglia che gli ha provocato gravi lesioni che ne hanno determinato il ricovero nell'ospedale San Francesco di Nuoro dove ha subito un delicato intervento chirurgico. Il giovane è ricoverato nel reparto di neurochirurgia del nosocomio onorese ma dopo essere uscito dal coma farmacologico non è più in pericolo di vita. Il grave episodio si è verificato a Siniscola in Via Nuoro la notte del 14 ottobre attorno alle 2 in occasione dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora delle Grazie. Le indagini degli agenti della squadra mobile coordinati dal dirigente Silvio Esposito e del commissariato di Siniscola avevano preso subito la direzione giusta grazie sia al racconto dei testimoni che avevano assistito ai fatti sia alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Carzedda era stato identificato pochi giorni dopo. All'origine del tentato omicidio è una lita verbale per futili motivi. Il GIP del Tribunale di Nuoro ha disposto per Carzedda agli arresti domiciliari.